L'anomolo caldo di fine ottobre che sta posticipando l'accensione dei riscaldamenti pubblici non addolcisce la pillola di bollette che rischiano di far traballare i bilanci comunali o comunque di privarli di risorse spendibili su altri progetti. Mancano infatti due mesi alla fine del 2022 ma è già prevedibile l'ammontare del rialzo dei rincari dei consumi energetici. Il comune di Pesaro nel 2021 ha infatti speso 2 milioni e 200 mila euro per l'illuminazione pubblica e altrettanti ne ha spesi per il consumo di gas. La previsione di fine anno è che ne verranno spesi 3 milioni e mezzo per la luce e 3 milioni e 800 mila euro per il gas. Aumenti praticamente del 100 per cento idem ma fanno dove si stima un raddoppio da 800 mila euro a 1 milione 6 per la luce e da 500 a 900 mila euro per il gas. Rincariche invece ad Urbino sono stati in settimana anche al centro del consiglio comunale che ha previsto una variazione di bilancio con quasi 400 mila euro destinati a colmare il gap del rincaro dei costi. Amministrazioni della provincia accomunate dunque da una trasversale preoccupazione che soltanto limitata all'anno corrente i cui rincari sono rattoppabili con accantonamenti e avanzi di bilancio che sono tutto sommato virtuosi. La vera angoscia è piuttosto sul 2023 che rischia di avere un effetto sismico meno gestibile senza un'inversione di tendenza nazionale sulla gestione del caro energia.